In realtà a studio rieccoci tra poco le parole di Andrea Agnelli, ma prima vi devo riportare una notizia che mi arriva dalla nostra regia ed è una notizia che ha del clamoroso, arriva dal Belgio, che già fu protagonista tanti anni fa della storica sentenza Bosman Ora io non dico che siamo a questi livelli, però chissà, perché per la prima volta si crea un precedente storico in poche parole nel campionato belga si rigiocherà una partita perché un errore del VAR è stato considerato errore tecnico Allora la partita era Genk-Anderlecht, adesso lo sto leggendo anch'io per la prima volta, era stato assegnato un rigore al Genk Il portiere dell'Anderlecht l'aveva parato, sulla ribattuta il giocatore del Genk fa gol Dalle immagini si vede che il giocatore era entrato prima, quindi l'arbitro annulla il gol e dà la punizione all'Anderlecht E fin qui ci sembra tutto normale Cosa succede però? Succede che il Genk dice, sì ma non è solo il mio che è entrato prima Sono entrati anche due giocatori loro e dalle immagini si vede, fa ricorso e lo vince E quindi la partita si deve rigiocare, ora voi immaginate se in Italia... L'Inter sarebbe ferma la decima giornata No, fanno ricorso al contrario loro Mi viene in mente un caso perché quelli dove tu fai la spinta che è valutata diversamente Lì non puoi fare nessun ricordo Ci sono invece quelli clamorosi dove per esempio, mi ricordo, non so se segno proprio a Cerbi con la maglia della Lazio Se vi ricordate fu riconosciuto E poi a quello Spezia, a quello Spezia Lazio Fu battuto il palla a centro quando il VAR invece ci fu un errore di comunicazione Ti ricordi che avevamo fatto un certo processo? Spezia Lazio 3 a 4 finito Sì, forse era il gol decisivo Era il gol decisivo al novantese Però ragazzi attenzione perché questo precedente in Belgio Quindi comunque in una lega europea gestita dall'UEFA Non in un'altra nazione o in un altro continente Crea un precedente Adesso non lo so se tutti faranno ricorso Però per la prima volta una squadra che l'ha fatto l'ha vinto Sicuramente ci saranno delle remore in meno nel provare comunque a fare un ricorso del genere Sì, di fronte ovviamente a cose clamorose Come questo fuorigioco della Lazio di cui insomma parlavamo prima Andrea Agnelli, le parole di Agnelli Inter Siena con i nove giocatori Però lì non c'era il VAR Ma per dire Ma c'era Ma c'è sempre un rivezzo Ma Inter lì un triangolo di mano l'anno scorso a Sanzino Te lo sei dimenticato Il triangolo di mano a Sanzino Allora vedi Paolo Questa è la dimostrazione che se in Italia prende piede la cosa di fare ricorso Il campionato non si gioca più Ah no, sicuro Ma io come dico sarei davvero preoccupato Già è una cosa molto innaturale questa cosa di fare ricorso Cioè tu pensa come snaturi anche se vuoi l'imprevedibilità L'errore fisiologico del calcio Cioè diventa... Però questo è un errore del VAR Esatto, questo è un errore del VAR Un errore del VAR Sì, un errore del VAR che avrebbe dovuto essere una cassazione Cioè non comprendere più errori e tutto E invece praticamente... Cioè evitare l'errore Il VAR era stato fatto per evitarlo l'errore Sì, ma è per quello che è un ricorso No, però lì era una decisione oggettiva, non soggettiva Perché è come il gol non gol o il fuorigioco Come se ci fosse stato un gol non gol Convalidato con la palla che non era entrata Mettiamola così Esatto, esatto Quindi perché lì è oggettivo Sulla decisione, sulla soggettività Non c'è mai... Non c'è mai... No, credo che qua sia un discorso di oggettività come dici tu Però in Italia da quando c'è il VAR Almeno 4-5 casi grossi di errori ci sono stati Io parlo di quelli proprio oggettivi E credo che... Mila Spezia Quello è un errore dell'arbitro però Però il Milan vince la partita al 92esimo Però lì l'arbitro ha fischiato prima che lui tirasse Quindi non puoi farlo Annulla tutto Non puoi fare No, no, è chiaro la punizione Però io dico Quello lì fu un errore gravissimo C'è clamorosissimo La carriera di Serra di fatto è finita quella sera lì Non abbiamo mai più sentito parlare di Serra Quando litigò con Mourinho Sì, ancora una volta Però già faceva il quarto uomo Andrea Nieli ha parlato al Financial Times E non molla il colpo su questa Superlega Che lui vuole assolutamente fare Andiamo a leggere le dichiarazioni di Agnelli Che torna intanto su quello che accadde In quella famosa sera del 2021 Dice io Non ho puntato la pistola alla Tempia a nessuno Tutti i club hanno firmato liberamente Alcuni più per paura di rimanere esclusi Altri erano più coscienti Anche altri avevano discusso del lancio di nuovi tornei Ricordo di essere volato a Parigi In pieno Covid E parlammo di un nuovo format Con Nasser Al-Khelaifi Che adesso è il presidente del Paris Saint Germain Nonché presidente dell'Eca Dicendo che c'era bisogno di un cambiamento Altrimenti saremmo morti E poi conclude così Dateci tempo Non è che le cose accadano per magia Dobbiamo trovare i club Per partecipare alla competizione Se no non potremo raggiungere i consumatori Cioè io non capisco Paolo Ma tu continui a lavorare su una Superlega Però ti mancano le squadre che la fanno? Sì no, ma secondo me è patetico Cioè secondo me è la conferma di un ego smisurato Di uno che non fa un minimo di autocritica su nulla Ovviamente dice che quello che hanno fatto Anche col tema fra virgolette plus valenza È tutto a posto per lui Però tutto a posto no Perché comunque la Juve è stata sanzionata E c'è stata anche una presa d'atto da parte della società E no, cioè secondo me è un po' patetico Nel senso che è chiaro che lui Sta lavorando ancora sta cosa Però non è che ci siano dei riscontri Oggettivi Di club che vogliono entrarci Oggi Paolo Seferin ha detto Esatto, dopo lo scontro che aveva avuto tra l'altro proprio con Seferin Però oggi Seferin ha fatto di nuovo il punto delle squadre 100% no in Inghilterra 100% no le tedesche Anche se con la sentenza della Corte Europea Comunque ha riaperto un po' volendo il discorso Però dico dopo che la sentenza c'è stata Seferin dice tra Francia, Inghilterra e Germania Nessuno In Spagna ha due Real Madrid e Barcellona E dice in Italia ci sono quelli che hanno espresso E due club non hanno espresso I due club che non hanno espresso sono Milan e Napoli Perché De Laurenti si ha fatto pure capire E Milan pure ha detto No calma vediamo che tipo di sviluppo ci sarà Quindi chi la fa sta Superlega? L'amministratore delegato della Superlega Non parla così come Seferin Anzi ha detto Sì pubblicamente dicono tutti che non la vogliono fare Ma a me telefonano per sapere Avere dei dettagli e sapere come eventualmente Lui ha coinvolto i club Marcello Lui si riporta sempre Marcello lui ha chiamato i club Noi i club che hanno chiamato Lui fa sempre riferimento Una dichiarazione Cefri Cosa vuoi che dica? Cefri è sempre stato contro Fin dall'inizio Ma in Inghilterra stanno facendo la legge Cosa vuole che dica? Ti dice Ma non c'è nessuno che la vuole fare Tutti i governi non vogliono fare la Superlega Che vieta di partecipare a una lega alternativa Ma come fai? Ma come fai vietare dopo la sentenza del Consiglio? Ma l'Inghilterra non è più nella comunità europea No però per il calcio lo è Per il calcio lo è Gli inglesi ti possono dire Va bene Se noi usciamo Il calcio è il calcio Ma la sentenza dice Che se tu vuoi fare un torneo Lo puoi fare Lo puoi fare Ma lo potevi fare anche prima La UEFA ti dice Tu partecipi a tutti i tornei che vuoi Ma se partecipi a un altro Non partecipi al mio Dei Montepremi Se il Montepremi di quello che farà la Superlega Sarà superiore Alla UEFA di sicuro Sei tranquillo Che i club non ci penseranno due volte ad aderire Ma qual è il ruolo di Andrea Agnelli Ma Andrea Agnelli è uno dei promotori E no ma di quella vecchia Vabbè ma adesso c'è Anche perché allora è il presidente della Juve Ma adesso si stanno organizzando Ma adesso non lo è più Si stanno organizzando Hanno comunque una struttura quasi aziendale La Superlega Lui sicuramente Certo avrà un ruolo comunque carico all'interno Ma non vive neanche più Ma tu Marcello Ma Leo senti il CEO della Superlega Quando parla cosa dice Sono cose veramente pazzesche Sono pazzesche perché Quando partite a settembre 2025 Gli fanno l'intervista il giorno dopo No Non vogliamo dare date Perché sarebbe una presa in G Chi arbitra non lo so Chi partecipa a 44 Tu in questo momento potresti mettermi per iscritto Che la Superlega non si farà mai? Ma la Superlega parte l'anno prossimo È la nuova Champions Con più introiti Con più partite Sì vabbè No Sì ma a livello di forma Ma fondamentalmente Non cambia Ci sono più incassi Cambia tutto E poi fanno giocare anche altre squadrette 36 invece che 32 Sono 4 squadre in più Con un Monteprini molto molto più alto Proprio per contrastare la Superlega Marcello Poi ha parlato di un tema che a te è molto caro Che è Ronaldo Perché mi ricordo che ne discutevamo sempre Chi diceva che Ronaldo è stato il problema La rovina economica della Juve E chi invece diceva Tra cui mi pare anche tu Che invece è stato un grandissimo colpo Una grande operazione Agnelli ci torna sopra Leggiamo le sue dichiarazioni Perché il colpo ovviamente l'ha fatto lui Si disse anche che Marotta In disaccordo Decise di lasciare la Juventus In quel momento lì Dice Agnelli Acquistare Cristiano Ronaldo È stata un'ottima mossa Dammi CR7 Permettimi di farlo giocare Senza la pandemia Sarebbe tutta un'altra storia Resto convinto Che abbiamo fatto tutto Secondo le regole E gli standard finanziari Il problema è che il calcio Si è trasformato da gioco a business Ma la sua governance Non si è evoluta La maggior parte dei club Perde soldi O siamo tutti incompetenti Oppure il sistema Ha qualche carenza E qui torniamo a quello Che dicevamo prima Quando lui dice un po' Che è tutto a posto Ma alla fine Fu un'operazione sensata o no Quella di spendere tutti quei soldi Per Ronaldo Marce Tu l'hai rivalutata nel tempo? No ma per me Guarda io ti dico Personalmente l'avevo ritenuta Un'ottima operazione Perché tu stavi prendendo Uno dei migliori giocatori al mondo È vero Ha un prezzo esorbitante Però su questo passaggio Ha ragione Agnelli Quando dice C'è stato di mezzo una pandemia La pandemia ha sconvolto Tutti i piani Che erano stati fatti Su Cristiano Ronaldo Cioè A quel punto era insostenibile Quando è arrivato il Covid Tu non potevi minimamente Più tenere Cristiano Ronaldo Perché non avevi più soldi Per poterlo pagare Esatto Quindi però prima Alla situazione in cui È stata fatta l'operazione Secondo me è stata una grande operazione Aveva portato entusiasmo Un giocatore che era diventato Capocannoniere praticamente Ti scegliamo Io non vi risultati in Europa Ti portava incassi Ti faceva vendere Però Marcello Non vedo come Ronaldo Possa essere un problema Come fa Ronaldo? No io non vedo come Ronaldo Possa essere un problema Per una squadra No per il costo No sì forse Se tu lo paghi 100 milioni di cartellini Però quanti soldi ti porta Prendi uno netto Quanti soldi ti porta Senza il Covid Però scusate Intanto gli altri chiedono Di bala Inizio a chiedere 15 milioni all'anno Quanti soldi ti porta Secondo In Europa Perché in Europa Che le squadre italiane Fanno il grande salto Vedete che ne so Il bilancio del Napoli di quest'anno Dell'Inter e del Milan di quest'anno Perché hanno fatto il percorso La Juventus Che ha fatto due finali Senza Ronaldo Con Ronaldo ha fatto il quarto Ottavo Ottavo Però ti faccio un esempio Non vuol dire nulla Perché lui con l'Atletico Vincere la partita da solo Eh ho capito Comunque lui il contributo lo dà Poi il fatto che la Juventus Con l'Ia Reale Ma la Juventus Ha fatto una scommessa Io non sono completamente contro Nel senso Il progetto Però Entriamo nel dettaglio La Juventus Era arrivata a 500 milioni di fatturato E erano due anni Che arrivava Al suo tetto massimo Prende Cristiano Ronaldo Perché vuole ampliarsi A livello internazionale Come brand Perché sai Che se prendi uno così Che è già un'industria da solo E la Juventus Ha sfondato il muro Quindi all'inizio è riuscita Ma il Covid è arrivato al terzo anno Esatto Ma infatti la Juve All'inizio Cioè tu vedi i quattro anni Che sono Ronaldo Addirittura Io ricordo Che in quel periodo Si parlava anche di possibile Rinnovo di qualche anno Addirittura Ma io si parla di prima Sto dicendo Che la Juve Arrivò a 620 milioni Di ricavi Quindi Ci fu l'esplosione Dei ricavi Però Prima ancora del Covid Nel programma Ronaldo Molto ambizioso Ci doveva essere anche Una stabilità Nelle prime quattro d'Europa Non ti dico di vincerla Invece la Juve Quell'anno Abbassò gli introiti Ebbe una serie di giocatori Ti ricordi L'esplosione di Rabbio 7 milioni Cesni 7 milioni Ramsey 7 milioni Di Bala voleva 10-15 C'è tutta una serie Che è un monte in gaggi Che è esploso Cioè Corseno di poi È stato un bagno di sangue Perché poi Ti ha costretto A fare due aumenti Di capitale Da 700 milioni Ti ricordi Uno più l'altro 700 milioni Cioè E pagarne le conseguenze Ancora adesso Vabbè È chiaro L'appiglio Dice C'è stato il Covid Ci hanno limitato Ovvio Ovvio È successo anche Per gli altri club Però Una situazione finanziaria Così Da costringerli poi Ad avere delle strategie Chiamiamole Spericolate Ma perché Sono stati fatti Degli errori Perché Giustamente Come hai sottolineato Te Sono stati fatti Altri errori Non è l'operazione Non è l'operazione Non è l'insè Tutto quello Collaterale È stato sbagliato Cioè Andare a dare Tutti anche Sti rinnovi Aumentare E aumentare ogni volta Il rinnovo Mettere il rinnovo Automatico Che ti blocca Sulla venita Del giocatore Ad esempio Bonucci Alexander Quadrado Erano tutti giocatori Che Era una fine corsa Se non gli facevi Quel contratto In cui c'era il rinnovo Automatico Dopo tot presenze Di sicuro Non li mandavi via A cifratissime Poi Secondo me Sì sì No Velocemente Dico Non c'era una chiarezza Anche in un progetto Tecnico Perché Gli allenatori Cambiavano E Sarri C'erano Allegri Gli fece così A Sarri Allegri Sarri Pirlo Poi vi abbia C'era stata la cosa Che hanno detto Non ci piace Allegri Basta Noi dobbiamo giocare In un'altra maniera Perché se no Ma anche Cristiano Ronaldo Era capo di questa E Allegri Ha detto Vabbè Allora vi assumete voi La responsabilità Che erano poi Di Paratici Ma anche Ronaldo Era tra quelli Che voleva Allegri Fuori Dopo l'Ajax Coinvolgere Paolo Ma tu pensi Che il Milan Abbia un 10% Non lo so Di possibilità Di tornare in corsa Beh 10% Sì Perché dai Comunque i numeri Non sono Definitivi E quindi bisogna Lasciare aperta una porta Però secondo me In questo momento Non più del 10% Non più del 10% Già questa cosa qua Non lo taglia fuori Completamente No Perché a livello aritmetico Hai ancora tutte le possibilità Del mondo Poi è chiaro Siamo a gennaio Che è la aritmetica Ti dà Però io ricordo L'anno in cui C'era stato il derby Con l'Inter Accesissimo Il Milan Alla fine del primo tempo Del derby Era 7 punti Però volete parlare Di aritmetica Allora il Milan Ha fatto 39 punti All'andata Juve e Inter Hanno viaggiato All'andata A una velocità Elevatissima Sopra i 90 Se il Milan Fa 50 punti Nel giro di ritorno Arriva a 89 50 punti Con l'Europa League Il giovedì Secondo me È un'impresa impossibile Perché non c'è una davanti Ma 50 punti 50 punti Tu escludi il fatto Che l'Inter e la Juve Possono fare dei passi fasi Cioè L'Inter Devono fare in due Tu dici Se l'Inter e la Juve Tengono il ritmo Che hanno Allora 89 non basta Una delle due Può anche mollare Ma non tutte e due Ah quindi Sì ma guarda che dire 10% è poco eh Sì ma Lo so che è poco Però comunque Non lo escludi a prescindere Questa cosa è già Una cosa È evidente Che l'Inter e la Juve Siano più forti Però perché Non lo escludo È vero che tu Ultimamente Hai comunque fatto 12 punti Sì Se non vado Errato Quindi tu ti sei messo Del grano No ma soprattutto Come li hai fatti Anche Beh No per dire A Udine Era persa La partita Poi però L'hai vinta Ma io ricordo Se ero qua quella sera Ero collegato Sì però perdonami un attimo Scusa Marcello Ti interrompo solo un secondo Però capisci che Se tu hai una squadra Dove il tuo punto cardine Chi gioca veramente Molto bene Che trascina la squadra Chi rimane sempre Giroud Quindi tu non hai comunque E parliamo di un giocatore Comunque di 37 anni Però a Udine Giù non ha segnato E nei fatti tre lo stesso Esatto Ed è invece il capocannoniere Del campionato Nonostante l'età Perché è dietro solo a Lautaro Che sta facendo una stagione Senza senso Quindi Io Ripeto Sono d'accordo Con la visione di Pioli Cioè in questo momento Il Milan non è in corsa Però ne basta Che l'Inter ne perda una La Juve ne perde una E il Milan ne dice una Cioè non è impossibile Cioè io penso Che il Milan ha solo una chance Per ritornare veramente in corsa Uscendo dall'Europa League Ma ritrovando anche un Leao Molto più in forma Perché comunque Leao è fermo Si ferma a tre gol Cinque assist No Non è che in quel momento Esce dall'Europa League E poi improvvisamente Diventa un grande Però ha qualche chance in più Chiaro Se dovesse uscire da una Coppa Che su questo È l'unica cosa Su cui sono d'accordo Stasera con Con Capite Capite E appunto È una Coppa Che ti porta Ti asciuga Perché giochi il giovedì Perché giochi tanto Hai un turno in più Però allora scusate Mi faccio una domanda E quindi poi soprattutto Diciamo anche un'altra cosa Perché il Milan è già uscito Vabbè Dalla corsa al campionato Non sappiamo Coppa Italia è uscito Champions League è uscito Gli rimane L'Europa League Esatto Io non so se Allora ti faccio una domanda E mi viene detto Il Milan Da quello che sento È fuori dalla corsa Del campionato Per i più Perché devi uscire Dall'Europa League Appunto Per quale ragione Non sto dicendo Che devi Se dovesse uscire Sto dicendo Che se esce Però se a gennaio No non siamo ad aprile Però se già a gennaio Mi si viene detto Che il Milan Praticamente È fuori dalla corsa Allo scudetto Allora a quel punto Me ne sto volentieri In Europa League E provo a vincere il trofeo Ma sì però io voglio dire C'è la Roma Che ha eliminato Bayele Vercuso E Real Sociedade Ha fatto la finale Avete tutti detto Che è tutto facile Poi alla fine Europa League Un'italiana non la vince mai Pure l'Inter L'anno delle partite secche Ad agosto No che ha detto che è facile Tutti Dice che Murino Ha fatto niente Perché la finale Ma Murino ha fatto pure La finale di Europa League Murino io lo valuto A livello complessivo Non lo valuto Voglio dire che c'è Ironico Quest'anno sapete Chi c'è in Europa League C'è il Liverpool C'è appunto il Bayer Leverkusen Che è uno squadrone Il Milan si deve impegnare Per andare in fondo Non è che se si impegna Vince l'Europa League Si deve impegnare Per andare in fondo E può anche vincerla Certo Ma si deve impegnare Non è che il giovedì Domenica Significa Quindi vuol dire Perdere anche delle forze Diciamo che si riesce Lo slavia Praga Puoi anche impegnarsi Su questo ha ragione Su questo ha di nuovo ragione La seconda volta Non so Perché parla ad altri Ma non parla nell'Inter Non ci hanno mai ragione Su questo hai ragione Perché ti può prosciugare Ma a livello sia fisico Che mentale E quindi in campionato Potreste avere un altro Contracolpo Se vai avanti Non lo so È un punto interrogativo totale Visto il calendario della Juve La Juve Io voglio vedere Dopo lo scontro diretto In casa L'Udinese Poi va Verone Il Frosinone Quando li perdesti i punti Però la Juve le ha tutte ad aprile Difficile Ma il Milan sta vincendo Milano a Roma Andare a Roma due volte con la Lazio Esatto Giocare con l'Inter a San Siro Esatto Abbiamo solo La Fiorentina E il Milan in casa Ma ragazzi Il Milan Avete detto che ha vinto Quattro consecutive Quanti punti ha mangiato Le prime due Non li mangia Perché la Juve le sta vincendo tutte L'Inter le sta vincendo tutte E io ti sto dicendo Secondo il tuo ragionamento Quindi Juve e Inter Non perderanno mai Non possono perdere una particella Non può esserci un inter sassuolo Come all'andata Li perderanno E se il Milan vince Quando li perde? Secondo me anche il Milan Perderà dei punti Ah ok Allora ok Certo Fin quando tornano Tomori Ciao E Calulu Secondo me è difficile Con Gabbia Chie Conterà tanto anche il recupero Degli infortunati E che non ce li siano di nuovi È tutto l'anno Che giochiamo con gli infortunati Eppure siamo a sette punti Sicuramente sul Milan C'è la variabile Leao Perché o Leao Mette le marce alte Le mantiene E allora ti può dare Un valore aggiunto Ma se è questo Leao E tu veramente Ti aggrappi ad altro È difficile avere delle speranze Cioè quel 10 Che avevamo Cioè l'ipotità secondo me Scende 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 È quello che ho detto prima Dopo vi farò ascoltare Proprio Pioli su Leao Perché oggi Pioli nega Che ci siano dei problemi Attorno a Leao Però poi voi mi direte Se ha ragione oppure no Andiamo in pubblicità adesso Rientro Continuiamo ancora con il Milan Domani Milan-Bologna Che tra l'altro Potrebbe anche essere La partita Del futuro allenatore Le sliding door Le sliding door sulle panchine A tra poco Addirittura Diretta studio Pianta lì Che hai giocato col Sassuolo Con un'ultra dell'Inter in porta Dai Capito però Un'ultra dell'Inter in porta Mi fa piacere che Federico Mi fa piacere che Federico Dia possibilità La squadra di Nicola Che è simpatico Perché ha fatto delle imprese Pazzesche Alla salerità Ma cosa pensi? Che corsi si levi? Cioè domani non viene a giocarla La partita? Meno male che tu vuoi stemperare Tu sei quello che stempera Che dice No ma io Sto dicendo che il pronostico È 99 a 1 Certo che è 99 a 1 Però non penso Non perché l'Empoli Si tolva Non perché è l'Empoli E invece Fiorentina-Inter È una partita Sulla carta più difficile Più difficile Anche perché mancano Comunque due terzi Del centrocampo Dei titolarisi Barella e Cianolu Lo stesso bastoni Non lo so se Inzaghi Lo rischia dall'inizio Sembra di no Poi dopo la vediamo Più con la formazione Posso fare una domanda Michele? Vai Se la Juve battesse l'Empoli Inter per destra Non vincesse a Firenze Ed effettivamente Si trovasse sotto Tu Tutte stelle sgrazie insieme No 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 Io ti voglio fare una domanda seria Fai la gufa sola Che le tue gufate non riescono No io sto facendo una domanda No ragazzi Non sto facendo una domanda seria Io credo che tu Riepiti l'Inter la favorita No? No io ho detto Per il campionato 50 e 50 Ma lo dico da tanto tempo Secondo te Se ci fosse un sorpasso Indipendentemente Da questo asterisco Tu come la vedete? Cambierebbe la tua Visuone Con la Juve sopra Di tre punti Ad esempio In maniera ufficiale Oppure Continua a dire 50 e 50 No secondo me 50 e 50 A meno che la Juve Non viene a vincere a Milano E lì diventa Ok No è la sera La mia domanda Però psicologicamente No? Essere sotto Anche se hai due partite Da recuperare Però Insomma Non è la stessa cosa Ma non è la stessa cosa Nemmeno pareggiare E vincere Perché andare allo scontro diretto A meno uno A meno tre Secondo me cambia Perché giocartelo a meno uno Metterà un uomo No mi ricordo Mille palle No però dico la famosa Però fu un assalto All'arma Cioè proprio nell'aria piccola Cioè a me il calcio di italiano Cioè mi piace Perché è un calcio offensivo Ecco meno male che c'è Paolo oggi Perché l'altra volta abbiamo fatto una discussione Che mi indicava italiano Che non è buona a niente Italiano Ma guarda che No vabbè ma fino a un mese fa Sicuramente scusate La Fiorentina e il Bologna Sono quelli che si contenevano Ma Paolo lo critica No è vero Guarda Guarda Secondo me l'errore che si fa È giudicare Se uno è bravo o meno Da risultato Solo da risultato Se è in alto è bravo Ma bisogna vedere Non ha detto che non è buona a niente Ma bisogna Però è un allenatore Che si va a vedere Dico Dico Bisogna essere capaci Di guardare dentro i progetti Perché sennò sono capaci tutti Cioè uno arriva lì Magari per cui No 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 Ma io non guardo Paolo scusami Io non guardo solo i risultati Io guardo come gioca una squadra No no Italiano sicuramente fa giocare La Fiorentina in maniera molto offensiva Però io noto Troppo In tante partite di italiano Che mi sembra molto evanescente Quest'attacco Capisci Probabilmente dipenderà anche dai giocatori Probabilmente dipenderà anche dai giocatori Però dai e dai e dai Oh non conclude mai sto italiano Beh vabbè Comunque bisogna vedere Da dove parti Che in questo momento sarebbe quarto E nell'anno 2023 ha fatto Quasi più gol di tutti Comunque tu hai di nuovo detto Un'altra fesseria Scusami che mi hai attribuito Io non ho mai detto Cosa ho detto Cosa dice No ma certo Io me lo ricordo Stavamo commentando Napoli-Fiorentina di Supercopa E' una settimana fa Ah è vero è vero Era Napoli-Fiorentina E tu dicevi che alla fine Tu eri presente Tu eri presente E io ero il conduttore E cosa ho detto Tu hai detto Ha fatto due finali Si eravamo anche d'accordo Ieri Che ha fatto due finali E lui ha detto Ma le ha vinte o le ha perse Le ha perse Beh ma non si può non essere d'accordo Ma come dobbiamo valutarli No ma dopo hai detto Un'altra cosa Perché ha fatto settimo e ottavo posto E tu hai detto E va bene ma poi E' arrivato che ne so Quest'anno arriva quarto Perché se non arriva quarto Non migliora Con la Fiorentina Se arriva quarto Fu un miracolo Cioè tu dici che la Juve Fa il miracolo Ma cosa l'hanno preso a fare Sto italiano Per migliorare O per restare sempre lì Nella terra di mezzo Ma poi Blauvic e Chiesa Vanno alla Juve Però secondo me ragazzi I suoi migliori li prendono E li portano via Nessuno dice che è italiano Non è bravo Però io sono dell'idea invece Che alla fine un allenatore Tu lo devi valutare Per il fatto che ti porti a casa Da risultato O non ti porti a casa Ma con che squadra hai Che squadra hai Lascia perdere Però la Juve Secondo me è bravo La cosa da sottolineare Aspetta Matteo Ti dico una cosa Aspetta finisco E poi ti lascio la parola Su tutto Cioè io concludo il concetto Dicendo Italiano è bravo? Sì Italiano ha portato risultati? Sì No Ma non è Ma ragazzi A livello pratico La finale di Coppa Italia L'ha strapersa con l'Inter La finale di Coppa Italia L'ha strapersa con l'Inter No strapersa Però è uno con Iovici Che si mangia due gol Però ragazzi Siccome Siccome Le competizioni Le vince una squadra Se tu arrivi in fondo Col gioco E valorizzi i giocatori Sei bravo Perché allora adesso Però non sai leggere le partite Aspetta Perché tutti diciamo E dicono anche Gli addetti ai lavori Che Tiago Motta È l'annuettore del momento Tiago Motta non ha vinto Però Uno capace Uno che sa di calcio Che non fa Fuori da uno studio Solo il tifoso Non guarda i risultati Allora te la metto giù Donato Non possiamo mettere la pari Tiago Motta con Italiano No Tiago Motta Tiago Motta Pensa Tiago Motta È più considerato Dai clavi importanti E fa bene Eppure ha fatto meno ancora Ma ha ragione veduta Ma ha ragione veduta Appunto Appunto Ma quello che dico io Che non vanno valutati Gli allenatori Infatti io Tiago Motta Non lo valuto Spalletti Adesso viene considerato Un fenomeno E lo è Ma cosa aveva vinto No Dicevano che era un perdente Prima Cosa aveva vinto Però le sue squadre Ha sempre giocato bene Però io Tu vedevi che era un allenatore Moderno Evoluto No perché se no è troppo facile Giudicare Però posso dire una cosa Scusate Quando Io Devo prendere l'esempio Della Juventus Perché la Juventus È l'unica che ha fatto Due finali Di Champions League No Quando la Juventus Fa le due finali Di Champions League Che le perde Io non ho mai sentito Nessuno dire Ma che c'entra Ma come fai a paragonare La Juve con la Fiorentina Mi fate finire un concetto Per favore Io sto dicendo La Juventus è stata criticata Per aver perso le due finali Ok Nessuno diceva Brava Juve Che è arrivata in finale Nessuno Alla Juve si diceva Eh ma la finale è la persa Eh ma non va bene È un fallimento La Fiorentina Va in finale di Coppa Italia Con l'Inter E prende due gol identici E perde la partita In due minuti Va in finale di Conference League E prende due gol Imbarazzanti Con il West Ham Quindi Matteo Finisco Finisco Posso finire un concetto No 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 Abbiamo capito No ma voglio esaurirlo Al cento per cento In semifinale con il Napoli Fa una partita Ancora una volta All'attacco È come perde Esattamente come Ma dove ha sbagliato Il rigore anche Ho capito E che lo dica L'allenatore il rigore Ma cosa c'entra Io ti sto dicendo Che secondo me Secondo me È un allenatore Bravo Ma limitato Perché non va mai Oltre quel suo punto debole Il suo punto debole È perdere le partite In contropiede Ma Matteo Quest'anno invece Se segui la Fiorentina Non sta prendendo gli stessi gol Segnalino Ma poi arriva avanti Comunque Arriva avanti Ma come sta paragonare Sì ma chiaro ragazzi Ma conta andare avanti O conta vincere Stabiliamo questa cosa Ma Matteo Ma la Fiorentina Allora Cosa c'entra Ma come Cosa c'entra Ma con Frens League Ha giocato con il West Ham Michele Non ha giocato con il Bayern Monaco Ma il West Ham Ma il West Ham Sai quanto Nella torta Il Vak Il Vak Non è uno squadrone Il West Ham Se questo è uno squadrone Infatti se ne è giocato Dal novantesimo erano 1-1 Ma appunto Per quello ti dico Che perde una partita assurda Sai che ha fatto Cosa c'è stato italiano Che infatti era disperato Del 2-1 Ha visto che Ranieri Non ce la faceva più Ha messo dentro Chi era Che poi l'hanno pure venduto Igor Che ha buttato Mi raccomando Questa cosa qua Non mi devi fare E sbaglia Giusto Ma no Ma adesso A parte le simpatie Le antipatie Possiamo dire Che l'italiano È uno degli allenatori Moderni E più evoluti Del calcio italiano Possiamo dire A te non piace Perché perde le finali Però se io sono un dirigente A me non piace Perché le perde lo stesso modo Ma se io sono un dirigente Tipo De Laurenti Lo sceglie E ho un progetto Che deve essere sostenibile Con giocatori Da valorizzare Eccetera Italiano Lo prendo E lo prenderà in considerazione Infatti De Laurenti Ma non vincerà Ma chi te l'ha detto Se hai la grande squadra Anche Spalletti Ma anche Spalletti Prima di vincere con Napoli Ma Spalletti Aveva un altro bagaglio Non era Vincenzo Italiano Con tutto il rispetto Cioè Spalletti Era un allenatore C'ha anche C'ha anche 68 anni Spalletti è rimasto Con la Roma Spalletti è rimasto Con la Roma E ma allenava la Roma E vincere anche la sua Italia Ma allenava la Roma Allenava la Roma Aveva tocca Allora la prima Dai Ma ragazzi Ma aveva Ma è arrivato il secondo È arrivato il secondo Se l'hai giocata fino alla fine Ma che la vuoi paragonare a Beltran Buonaventura e Duncan Buonaventura Sappiamo La Fiorentina vuole arrivare in Champions La Fiorentina vuole entrare in Europa Non è sicuramente quello di vincere lo Scudetto Perfetto Ma qui qua ci siamo Ma qui qua ci siamo Ma no Scusate Non è proprio vincere l'Ubino Sì però Sì però Michele perdonatemi Ma un conto è dire Italiano è un grande allenatore Vabbè certo Bisogna fare la base Sui giocatori che ha Perché comunque Non ha la rosa dell'Inter Cioè è la Fiorentina Però se raggiunge un obiettivo Superiore a quello Che si sono imposti Precedentemente Allora uno può dire Vincenzo Italiano È un buon allenatore Ma lo è in effetti Non è solo l'obiettivo È come lo raggiunge Però bisogna anche partire Un attimino da quello Poi per come legge le partite Non c'è discussione Le legge comunque In maniera corretta Perché se io ho un allenatore Però delle volte ci sono errori Troppo banali La replica di Paolo E poi pubblicità Se io ho un allenatore Che magari mi raggiunge Lo stesso obiettivo di Italiano Italiano Però mi fa Quante sono le partite In Serie A Per 38 Per 38 partite Le barricate Non mi migliori i giocatori Non diverte Non ha coraggio con i giovani Non mi interessa Se quell'anno è arrivato lì Non lo tengo per un progetto Italiano è un allenatore Da progetto Certo Non è un allenatore Ma quanto dura questo progetto Quanto dura la Fiorentina? 20 anni? Ma un progetto Ma un progetto in genere Quinquennale No? Un progetto è quinquennale Stanno crescendo Stanno crescendo Pian piano Ma Italiano Però voglio vedere Se arriva quarto È cresciuto Se arriva quarto Questo è il discorso Se non superi le sue ambizioni Allora Allora Murigno che era nono Andava bene Italiano che è quarto No Infatti Murigno L'abbiamo criticato L'abbiamo criticato Infatti Murigno Basta C'è conta il risultato Ma come devi vincere Ma sui minuti Ma sui 20 squadre Deve vincere tutte Deve vincere tutti Lo Scudetto Ma dipende dagli obiettivi E appunto Ma la Fiorentina non ha un progetto Per vincere lo Scudetto Ma ho capito Ma la Fiorentina È da quarto posto Neanche persone Ma no Certo che no Ma se lui ci arriva È un grande allenatore Infatti se lui ci arriva È un grande allenatore Decide commisso Qual è il problema di commisso Che lui vuole licenziare L'italiano No L'unico problema Può essere che glielo portano via Ma Micel al Girona Che giocatori ha Micel al Girona Che giocatori ha Eppure stragioca Ed è in testa Ci sono le eccezioni È un'eccezione clamorosa Tu mi prendi la squadra Che è prima in Spagna Anche l'Ester Una volta ancora neri Ragazzi due minuti Dai pubblicità Torniamo rientro Formazione dell'Inter Allora rieccoci rieccoci Torniamo sull'Inter Però è su quello Che l'Inter Insomma deve andare A fare a Firenze Con le defezioni Importanti che ha Andiamo a vedere La probabile formazione Di domenica Le assenze di C'è la no L'Ubarella E probabilmente anche Bastoni Perché Bastoni Sarà convocato Ma credo Michele Partirà dalla panchina Quindi tu cominci già Difesa direi che Pavard e Vraia Cerbi Vanno benissimo Centrocampo Però in fase offensiva Abbiamo visto La semifinale con la Lazio È stata molto diversa Oltre che per il Poco riposo Con il Napoli Ma l'asse Bastoni Di Marco In fase propositiva Non può essere A Cerbi di Marco La stessa cosa Anche se a Cerbi Ti dà una solidità Tra l'altro Ha sofferto L'anno scorso Gli esteri Perché la Fiorentina Ha questi esteri Icone Sottili Quindi in velocità Possono mettere in difficoltà Finì 4 a 3 Al 95 3 a 1 Inter 3 a 3 Al novantesimo E poi 3 a 4 Addirittura al 95 Partita Partita pazza Quindi sì Sarà una partita Difficile Anche perché Le assenze Dall'altra parte C'è una Fiorentina Che si è preparata Dal 18 di gennaio Ha perso col Napoli E tornata Non ha giocato Comunque ragazzi L'ultima partita Da Fiorentina Che ho visto È stata una verità Squallida Contro il Budinese Contro il Napoli Supercoppa Mamma mia Tu non credi Che l'Inter Possa trovare Dei problemi A Firenze? Perché ridi? Problemi L'Inter Problemi L'Inter Se gioca come Col Monza E con la Lazio Non li troverò Però è impossibile Con il Napoli Con il Genoa Se giocate in 12 Sicuramente Non l'avevi colta 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 Sempre sul tema Neanche a Firenze Neanche a Firenze Quindi per Marcello Nessun problema Per Matteo Vabbè è chiaro Che non è una partita facile Io non stavo Screditando la Fiorentina Né stavo screditando l'Italiano Era la semplicissima mia idea Per me L'Inter ha le potenzialità Di vincere a Firenze Assolutamente Però sicuramente Dovrà fare attenzione Perché non è come andare a giocare A Salerno Che magari è un campo Un pochettino E poi comunque Tra Cialanoglu e Aslani Credo che ci sia una certa differenza Per me perde tantissimo Cialanoglu è uno dei migliori Stratgampisti europei In questo momento Cialanoglu E Aslani non gioca mai E non ha i tempi di Cialanoglu Per me è molto più lento Guardavo l'altro giorno In Serie A Ha giocato 150 minuti Sì ha giocato poco Tra l'altro ha fatto Una cosa bellissima Però qua qualcuno mi ha detto Che è un gran giocatore No non faccio nomi Però qua mi è stato detto Che Aslani è un gran giocatore Giocando due volte all'anno Vabbè l'hanno preso Perché Non è che l'hanno preso È un ottimo prospetto Però in questi due anni Inzaghi non gli ha mai dato fiducia L'anno scorso Si è capito Perché non gli dava fiducia Quando nel finale Ha avuto qualche possibilità in più Gli mancava la personalità Quest'anno Anche con tutte le partite Adesso direte Non è il Brasile D'accordo L'Albania Però in nazionale Ha fatto tutte le partite Sempre da titolare In estate Dopo che gliel'hanno detto tutti Perché glielo dicono anche i compagni Ci deve mettere più cattiveria In estate Si era proposto Con un livello più alto Anche di leadership Poi durante la stagione Però alla fine Giocava sempre Cialanoglu Lui ha fatto Una bellissima giocata Per il gol decisivo Dell'Inter con la Roma Poi le altre partite Invece Ha fatto delle partite In cui ha sbagliato Per esempio Col Benfica Otto giocatori cambiati Quindi in un contesto diverso Ma perse la palla Del secondo gol Perché si mise a scartare In difesa E col Bologna stesso Ha fatto un sacco di lanci Ma anche sbagliati Così Quindi ha giocato poco Quelle poche volte Ha iniziato a sbagliare La giocata E poi Non ha avuto la possibilità Di rifarsi La partita successiva Domani è la prova del 9 Però è un classe 2002 Se prendi i giocatori Di quell'età Deve essere anche disposto Lo so che se all'Inter All'UV All'UV All'Milan È difficile Ma è secondo me Impossibile a quell'età Essere subito pronto Subito pronto No Però secondo me Se un giocatore Col tempo cresce Cresce anche come minutaggio Asrani Siamo a Quasi a febbraio 150 minuti Ma anche Frattesi ha avuto poco minutà Perché fai fatica A togliere Barella Cianogu Michitalian Ma se fai fatica Cioè scusi Però Frattesi entra Scusi io ti faccio l'esempio Scusi io ti faccio l'esempio Di Allegri Che a un certo punto Punta su Ildiz Ildiz diventa La prima scelta Dopo Chiesa Diventa la prima scelta Perché Capisci che dici Questo ha delle qualità Può giocare in prima squadra Possibile che in due anni Due anni che ce l'avete lì Non l'hai visto Se Siccome Io penso che Simonin Zaghi L'abbia visto bene Siccome l'ha visto bene Preferisce Fidarsi di altri Piuttosto che Metter Aslani Cianogu 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 è stato reinventato In quel ruolo Tra l'altro Grandissima idea L'anno scorso aveva addirittura Anche Brozovic Tra l'altro quando l'ha reinventato Quando si fa male Brozovic Hai Aslani pronto a giocare L'anno scorso Aslani Era il tempo L'anno scorso Aslani Era il tempo Domani diciamo che è un test Importante per Aslani Domani è un test importante Domani se Aslani fa bene È una Anche Frattesi Io penso tutte e due Domani Però Frattesi ci racconta Sempre che Nel Sassuolo Lui voleva andare via Due anni fa Ha detto poi io ringrazio Carnevali il Sassuolo Perché mi hanno convinto Perché la sua La sua crescita Doveva essere ancora Graduale Aveva bisogno Di giocare titolare lì Anche ad Aslani Quest'estate ha rischiato Di andare in prestito Lui ci teneva A rimanere Io sono contento Perché si parla di Maximo Lopez Secondo me Aslani Ha le qualità Però ripeto Non è facile Mettersi in cabina Di regia Torno a te Gira la squadra Se poi sei anche Un po' timido Perché comunque Una questione Puoi crescere prima E puoi crescere dopo Oggi Aslani Deve ancora fare Quel passaggio Successivo Però la qualità Ce l'ha A proposito di Inter Oggi De Laurentiis Ha parlato anche Di Zierinski Zierinski Che insomma Secondo un po' tutti Paolo È ormai un giocatore Dell'Inter A parametro zero A giugno Sentiamo De Laurentiis Perché De Laurentiis Prima parla di Zierinski E poi dice Una cosa marotta Sentiamo Zierinski Che è un brevissimo Ragazzo E un ottimo calciatore È stato otto anni Io credo che certe storie Di grande simpatia E di grande amore Poi a un certo punto Vanno al termine Così da sole Quindi se lui Volesse restare Noi siamo qui Ad abbracciarlo E a tenerlo con noi Ma se lui vuole partire Perché magari ha Un procuratore Che sente l'odore O la puzza Del denaro No? Per me il denaro Non ha né odore Né puzza Perché un mezzo Non è un fine Per molti è un fine Evidentemente Avrà immaginato Di prendere Un bel biscotto Da intingere Un bel caffè e latte E quindi Avrà convinto Il ragazzo La moglie Il suocero A portarlo via Da Napoli Il legno Io vi dico Sostante una cosa Che i media Scrivono Mare di cavolate Il signor Zerinsky Da me prende Uno stipendio Molto più alto Di quello che io leggo Andrebbe a prendere All'Inter Ricordate? Quindi va all'Inter? No all'Inter All'Inter Io ho detto a Marotta Ma ti stai comportando bene Comunque Ma io l'ho detto Con il sorriso Anche perché lui Mi risponde Non è vero Non è vero Marotta gli risponde Non è vero Non è vero Non è vero Ma invece è vero Paolo Che Marotta Ha già Un accordo Con Zerinsky Ma sì Molto probabile Molto probabile E Però De Laurentiis Non la racconta Proprio tutta Nel senso che A Zerinsky Ha proposto Un contratto Un rinnovo Al ribasso Cioè Portandolo A un milione e otto Già Già Dall'inizio della stagione Con quello attuale Che penso sia Due sette in corso Cioè Voleva ridurglielo Da quest'anno E quindi Ovviamente Ma con Zerinsky Fece una cosa del genere Quando Ma poi l'ha anche detto È otto anni che è qui Cioè Quindi la verità Vera Di rinnovarlo Ma io Secondo me ci sta Cioè uno deve cambiare aria Cioè comunque Ha fatto Perderlo a parametro zero È sempre Una sconfitta Credo per un club No? Sì Però d'altronde Non sempre le cose Ti riescono Perché per esempio Avevano venduto Coulibaly e Fabian Ruiz L'anno scorso A un anno dalla scadenza Con Zerinsky Non si è riusciti Però De Laurentiis Con Zerinsky Quest'estate Ha mancato Una bella operazione Perché c'era Un club arabo E lui non è voluto andare E lui non è voluto andare È certo È certo Che gli avrebbero dato Sembra 25 Quindi era una bella operazione Era tutta plus valenza Però niente Cioè Zerinsky Credo che all'Inter Firmerà un triennale A 4 milioni Che poi è un giocatore Di 29 anni Quindi 30 E del 94 94 Quindi 30 anni Parametro zero È un bel colpo Non prende meno Sì però Non si è comportato bene Come Osimè Osimè si è comportato meglio Perché ha rinnovato Sì perché Lo fa guadagnare Perché comunque Gli ha fatto mettere la clausa Però più mercato Osimè di Zerinsky Beh no Secondo me sono Ebbene no È diverso Cioè Zerinsky Si rinnova Io parlavo proprio A livello di comportamento Soprattutto che Secondo me Zerinsky dice Ma se io Ferro firmo Il rinnovo De Laurenti Sì Magari mi vende No Però l'Inter Magari a quel prezzolino Non mi prende più Esatto E allora dice Secondo me Zerinsky Il primo obiettivo Era rimanere a Napoli L'ha fatto capire In tutte le lingue Però voleva rimanere a Napoli Con l'ingaggio Che gli sta dando l'Inter Con l'ingaggio Almeno l'ingaggio di prima Poi nel momento in cui Col Napoli Non trova l'accordo Anche una questione Di commissioni Perché De Laurentiis Magari dice la cifra Del giocatore Ma non il bonus All'ingresso Con le commissioni Se io ti do 5 milioni all'ingresso In tre anni di contratto È un milione e mezzo In più Quello l'ha dato Osimè Quando ha firmato Quindi voglio dire Zerinsky Non vuole andare in Arabia Vuole rimanere in Italia Gli piaceva più Napoli Ma se non è Napoli Preferibilmente In un campionato Che già conosce Se l'Inter ti vuole E l'Inter Come dice Marcello Non ti dà 20 milioni Allora io che faccio Per forza Sì però io non so Cioè Paolo è vero Che gli dà Meno di quello Che gli dà No Ho detto di Napoli No Perché quello che dice Gli ha offerto 1,8 per rinnovare Ma va Non gli dice Che oggi Zerinsky Da lui guadagna Di più Di quello Che gli darà l'Inter Ma non è vero Io so che lui guadagna 2,7 Impossibile Come 2,7 Anche se fosse 4 pari Dopo all'Inter Prenderà La commissione Come Zerinsky Era un pallino Di Massimiliano Albeck Ma anche di ausilio Gli ha chiesto Aggiunto È un grande giocatore Anche di ausilio Quando era più giovane Sì sì ma lui Gli ha chiesto Anche adesso Gli ha richiesto Ma gli ha detto Che Giuntoli gli ha detto Guarda che Non ci serve A noi Per come Tu giocare alla squadra Quel tipo di giocatore lì Non ti serve Lì arrabbiò L'impronta è stata di Giuntoli Però nel bloccare Un'ipotetica trattativa Lì arrabbiò la Juve Che potrebbe rinnovare Sta provando a rinnovare L'Inter ha Aveva 4 giocatori Addirittura quest'anno Agumè è andato in prestito Al Siviglia L'Inter non ci punta C'è il diritto di scatto a 8 Sensi che sta andando All'Eister in questi giorni Klassen che ha un 1 più 1 Ed è stato preso Alla fine Perché Praticamente Klassen è un altro Che non rientra Perché l'Inter Stava prendendo Samarzic Poi è saltato Samarzic E allora ha ripiegato su Quindi rimane Una mezzala sinistra Che è Mkhitaryan Che ha appena rinnovato Per altri due anni Però ha appena compiuto 35 Quindi l'Inter lì Vuole fare la coppia Mkhitaryan-Zelischi C'è da dire comunque Complimenti a Marotta Perché Senza budget Diciamo Riuscire a prendere Zelischi Magari anche Taremi Perché anche di Taremi Si parla molto Senza budget Comunque vorrei Senza budget Nel senso Non spegni di cartellino Paghi solo gli stipendi Ma hai ragione Matteo Non è senza Ma l'ologramma Quando torna Il parametro zero Di fatto vuol dire Non pagare il cartellino Però paghi all'anno Paghi Senza decreto crescita Circa 9 milioni Ma quello lo pagano tutti Tutti danno gli stipendi Perché il Milan Per esempio A parte le AO Ai centrocampisti Credo che gli dia Stipendi più bassi Certo C'è l'Inter inizia a avere Zilischi a 4,5 Barella a 5 C'è l'Inter L'Inter ha stipendi alti L'Inter ha stipendi alti Ma paga poco di cartellino Quasi zero Nel totale Gli stipendi sono voci attive Costo mano d'opera Cioè anche appesantirti tanto con gli stipendi Non è molto sostenibile Facevamo un discorso della Juve Quando è arrivato Cristiano Ronaldo Che ha alzato tutti Perché dopo li alzi tutti in proporzione E poi comunque è una politica Per il momento vincente Quella dell'Inter Però è pericolosissima Perché sono stipendi alti Su giocatori Solitamente avanti di età Che non puoi più rivendere Aspetta un attimo Scusa Paolo Però ti dico Perché proprio ieri è uscito La Deloitte Football Money League Che ti fa tutte le percentuali Oltre ai ricavi E l'Inter Che prima della pandemia Aveva il 53% di incidenza Stipendi sui ricavi Poi con la pandemia Ha sforato 68, 83, 82 Quest'anno 61% Il regolamento del fair play finanziario Deve essere sotto il 70% Ma loro fanno i loro conti Per dirti Juve e Milan La Juventus in questo momento Ha il 65% Quindi è nei parametri Un po' più alta Il Milan Che invece dicevamo Ha una politica diversa Ma la Juve non ha il fair play No, no La Juve è il 70% di agreement Adesso lo deve riscrivere Perché ritorna in Europa Il Milan è più basso Che ha un monte stipendi Più a 45% Quindi il Milan Sta facendo un altro tipo di politica Tanto che il Milan Che ha 400 milioni di ricavi Chiude a più 6 il bilancio L'Inter che è 425 Chiude a meno 85 Perché ha dei costi più alti Sta cercando di riequilibrare La Juventus Chiude a meno 85 In Italia Adesso tanto la Juventus Parla di rinnovo Di capitale Un aumento di capitale Mi dice di avere sempre costi E ricavare Una cosa sui rinnovo anche di Lautaro Visto che stiamo parlando di Inter No, vorrei dare una notizia a Mosconi Sembra che invece in Pol Per sostituire Pioli Oggi sei italiano No, no, tranquillo Io non ho nulla contro l'italiano Tranquillo Ma a me piace come allenatore Io semplicemente discutevo L'analisi delle finali che ha fatto No, ma io sono d'accordo Io sono d'accordo Soprattutto quella con questi Ma infatti Ma infatti Ma se io sei italiano Viene al Milan Mi porta in tre finali Sono felicissimo Però poi le vuoi vincere Hai capito? Non me ne fa perdere Le vuoi perdere Paolo, Paolo Rinnovo di Lautaro Martinez Penso che siamo rimasti in settimana Quelle dichiarazioni un po' sibilline Di Camagno Anche di Camagno Ma anche sue Lui prima di Internappoli No, ma firmi Rinnovo Non lo so Ma ascolta È abbastanza normale Se tu chiedi un rinnovo 8 più bonus Che poi fanno 10 E comunque la società Con le scadenze che ha finanziarie Deve ben capire cosa succede È chiaro che la società Si prende i suoi tempi Io non so se questa cosa Mette particolare agitazione All'autaro Che lo vuole fare Oppure no Certo che secondo me Non resta in mutande All'autaro Perché il giocatore qual è Ha un mercato pazzesco Potenziale Però le ragioni Sono quelle La sua eventuale fretta Non si sposa bene Con quella dell'Inter Perché comunque È un contratto Pesantissimo In una situazione In cui La società Non ha ancora Le idee chiarissime Ma il suo agente Paolo Secondo me la società Ce ha le idee chiare No, dico A livello finanziario Dico Non ha ancora fatto Gli incastri finanziari Ma sai qual è il problema Il problema è che Passare da 6 a 8 Più bonus Può essere un bel aumento Però Inizia la stagione E l'autaro Fa un gol a partita Fa un gol a partita E la gente Che fa il suo mestiere Eh sì Lui dice pure Che è interista Perché dai tempi di Cooper Lui è stato pure Però alla fine Non frega niente Del tifo della squadra Lui fa l'interesse L'interesse qual è? Dice io Il mio assistito È il numero 1 Oggi in Serie A Quanto guadagno Nei numeri 1 In Serie A E va a vedere Il contratto di Osimen Che è stato portato a 10 Il contratto di Vlaovic Che l'anno prossimo Va a 12 Perché il mio assistito È meno di Vlaovic Osimen Tecnicamente ha ragione Poi però C'è anche il discorso Poi c'è l'inter Però L'autaro Perché se l'autaro Professa Una fede interista Ma questo ha detto anche Camagno Camagno ha detto Lui ama L'inter e l'inter ama Lui La linea Diciamo la volontà È la stessa Ma ma solo se gli danno 10 milioni No però attenzione Perché quello che dice Paolo Sul potenziale La potenziale offerta Non è che ci sono 10.000 club Oggi che stanno andando Da l'autaro Se non rinnova A due anni di contratto Soli davanti La prossima estate Diventa una estate Decisiva Perché se no Vai all'anno successivo Ma l'obiettivo Ma tutto questo dipende anche Dall'andamento dell'Inter In campionato In centri In centri In tutto quanto Perché sicuramente C'è un conto Se secondo me Già potremmo fare un discorso diverso Se l'Inter Si trovasse Per dire Si fosse trovato Al posto del Napoli Dell'anno scorso Dove eri A più 16 Praticamente In questo caso Dalla Juventus E tutto quanto E allora potevi già iniziare A ragionare In termini diversi Non dico che avevi già vinto Il campionato Però C'erano delle possibilità Molto più alte Adesso comunque A parte che sei sotto la Juve Ma per questioni Perché i due partiti Però su quello Mariana Loro sono nell'ordine delle idee Di voler fare il rinnovo E entro la primavera Lo vogliono fare Anche l'Inter Lo vuole fare Per questioni di cifre Tutto quanto Cioè secondo me L'andamento del campionato E se ci fossero stati Più punti di differenza Come hai detto tu I gol di Lautaro Sono quelli Tra poco che ha segnato la Juve Ci sono tante cose Che influiscono Tu ne fai sempre Questione di risultati Ma lì è questione di progetto Non è che a Lautaro Tu non rinnovi Se Si però magari Lautaro non vince il campionato Viene eliminato La prossima giornata In Champions E dice Ma non è quello Lui vuole un progetto competitivo Quello è sicuro Ma non è quello Però ci sono Il problema Cioè c'è da analizzare un attimino Questa cosa Ma il problema è finanziario L'Inter Guarda caso Zimèn ha vinto il campionato Da una parte E vede come sta andando lì Il Napoli Prende Datemi due minuti Che torniamo con l'ultimo blocco Tutto calciomercato Tutte le notizie Facciamo un po' il punto della situazione Oggi ce n'è stata una clamorosa Che è arrivata anche dall'Inghilterra Un annuncio ufficiale Che però ha spiazzato tutti Ripartiamo da qui Due minuti E tra poco Che è arrivata anche dall'Inghilterra